Allora, voglio le vostre opinioni, voglio cominciare da Lucia Zolina che si è trovata, diciamo, proprio sulla prima linea nel pieno della pandemia, nel momento più spaventoso e quando non si avevano ancora gli strumenti per interpretare. Oggi che effetto le fa vedere invece questa riflessione al contrario? Cioè, insomma, come se si volesse dire, ma insomma, sta pandemia non è niente di che o comunque non si affronta così. C'è addirittura chi dice che non esiste, è una grande truffa, non lo dice Frecciero questo, ma per esempio lo dice il professor Montanari che fa parte di questo consesso. Che effetto le fa sentire queste parole? A me personalmente fa paura, è come se fosse un pugno allo stomaco, perché io ricordo benissimo quello che abbiamo vissuto l'anno scorso. Io me le ricordo tutti i giorni le bare di Bergamo davanti alle quali abbiamo pianto in tanti. Io me le ricordo benissimo i messaggi che mi arrivavano, le lettere da parte degli studenti che avevano perso i nonni. Posso capire le paure, posso capire le emotività rispetto ad una situazione sanitaria complessa, però le parole che ho appena sentito a me sembrano più che altro un delirio. Quando io sento parlare di Shoah, di Olocausto, penso che hanno mai aperto i libri di storia, sanno che cosa è stato quel periodo storico, perché non sono assolutamente paragonabili. Noi oggi stiamo vivendo una situazione difficilissima. Il vaccino può piacere o non può piacere, ma noi oggi abbiamo dei dati. E mettendoli a confronto con il novembre del 2020, sappiamo bene che il vaccino sì non ti guarisce, ma ti permette di convivere con una situazione difficilissima. Per cui oggi possiamo andare al cinema con tutte le precauzioni che conosciamo, possiamo andare presso un museo, possiamo vivere un po' la cultura, possiamo tenere le scuole un po' più aperte. Questo non è poco rispetto a quello che accadeva l'anno scorso. Allora, Gianluigi Paragone, ti senti vicino idealmente a quella commissione, a quel gruppo di intellettuali che si sono ritrovati a Torino? Stanno soltanto esprimendo la volontà di poter parlare, di poter discutere, di poter confrontarsi. Mi fa un po' specie sentire l'ex ministro Azzolino dire che chissà se avranno mai letto un libro di storia. Io penso che forse a gambe, in cacciari, anche lo stesso Freccero, qualche libro di storia su via. L'hanno anche aperto. Adesso vediamo di non buttare in cacciara tutto per offendere le persone. Vi leggo.